E anche questo 2021 se ne va, ormai mancano pochissime ore e come si fa solitamente a fine anno si trae un pochino il bilancio di quello che è stato. Sicuramente nonostante le difficoltà legate al Covid è stato un anno sicuramente per noi positivo e quindi dobbiamo ringraziare tutte le coppie che ci hanno scelto, quindi le coppie 2021 che ci hanno scelto, che hanno deciso di condividere con noi la gioia del loro giorno più importante. Grazie per averci fatto emozionare, per aver ballato, cantato, riso insieme a noi. Ci siamo divertiti con voi e di ognuno di voi ricordiamo, abbiamo un ricordo che rimarrà per sempre nel nostro cuore, quindi un augurio veramente sincero ed affettuoso per questo 2022 che vi porti tante cose belle. E poi dobbiamo anche fare gli auguri, devo anche fare gli auguri alle coppie 2022, quindi quelle che già ci hanno scelto e che insomma sono già impegnate con i loro preparativi, noi come diciamo sempre li accompagniamo fino al giorno del SIP per condividere questa gioia insieme. Quindi auguri anche a voi di cuore e poi infine voglio fare gli auguri e ringraziare tutti gli amici che collaborano insieme a noi, quindi tutti i musicisti perché insieme appunto ci sopportiamo, ci sopportiamo, ma soprattutto ci divertiamo e facciamo tanta tanta bella musica insieme. Quindi grazie anche a voi, un augurio di cuore, non dirò i nomi di tutti perché lo sapete siamo un team e siamo veramente tanti, quindi rischierei di dimenticare qualcuno. Quindi grazie anche a voi, un augurio veramente sincero e di cuore a tutti. Vi abbraccio e share the love! L'anno che è ormai giunto al termine ci ha dato la possibilità di incontrare delle coppie meravigliose che hanno deciso di condividere il loro amore con noi e di questa responsabilità e di questo compito ne siamo veramente grati. Mi auguro che il nuovo anno possa arricchire ancora di più il nostro percorso e auguro a tutti voi di non abbandonare mai la forza ed il coraggio di manifestare il vostro amore. Buon 2022, mi raccomando mangiamo tanto perché ce lo meritiamo. Migli auguri! Auguri a tutti voi e a tutte le coppie che hanno scelto di condividere il giorno più bello della loro vita con noi, i Senzatempo Live. Sono felicissima di far parte di questo meraviglioso team che con professionalità ed amore si impegna per rendere indimenticabile il giorno del matrimonio. Il 2021 è stato un anno difficile ma per me è stato anche un anno importante perché essendo un new entry del gruppo attraverso questa esperienza ho avuto l'occasione di conoscere persone meravigliose che mi hanno fatto sentire subito a mio agio e mi riferisco a Ida, a Maria Rosa e soprattutto a Giovanni a cui vanno i miei migliori auguri per un 2022 all'insegna della musica e soprattutto del divertimento. Auguri! Cos'altro raggiungere dopo quello che già hanno detto Maria Rosa, Ida e Francesca? Mi associo al loro messaggio d'aguri, infatti questo video vuole essere proprio questo. Quello che voglio aggiungere è una piccola riflessione su questo anno che stiamo per lasciare. Devo dire che rispetto all'anno scorso è stato un anno molto produttivo, è stato un anno in cui molte coppie sono riuscite finalmente a sposarsi dopo vari spostamenti di date. Quindi per questo io ma tutto il team di Senza Tempo Live siamo veramente felici che quest'anno molte coppie si siano riuscite a sposare. Il nostro augurio per quelle coppie che già hanno confermato l'anno prossimo che possono essere veramente date confermate per loro e quindi non come è successo l'anno scorso. Quindi il mio messaggio che si aggrega a quello di Francesca è che ringrazio Francesca Olia, Mederosa Sansone, Ida Scarlato per aver preso parte a questo video. Ringrazio tutti i membri di Senza Tempo perché non siamo solo quattro ma siamo un bel po' di persone, quindi ringrazio tutto il team di Senza Tempo Live che ogni giorno si impegna costantemente. Grazie a tutte le persone che ci seguono, se non ci seguite fatelo ora su tutti i nostri canali Instagram, Facebook, canale YouTube e ancora auguri per un 2022 che possa essere veramente migliore rispetto al 2021. Ciao a tutti e auguri! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!